E' ancora in testa la Ferruzza, seguita da Raimonda, Porta Bernarda, Botteghe, Samo e Porta Bernarda. Ecco le Botteghe che prendono e avviancano la Ferruzza, la curva e la partenza sono Ferruzza e Botteghe che sfilano prima, seguito da Querciola, Samo e Porta Bernarda a seguire le altre. Ferruzza che gira prima e Botteghe allarga un attimino, poi c'è Querciola, Samo, Porta Bernarda, infine Torre, ancora Ferruzza, Ferruzza e Botteghe ma in questo momento è sempre Ferruzza al comando. Botteghe, Querciola, Samo che rinviene da dietro, Torre che rinviene da dietro, Botteghe e Ferruzza sono a fianco a fianco ma le Botteghe passano, prende la prima posizione, la controlla e le Botteghe arriva fortissimo anche Samo e Torre. Samo e Torre, Ferruzza, Samo appena in sua seconda posizione, c'è le Botteghe alla curva della partenza, l'addirittura d'arrivo. La rimonta di Samo, bellissimo, c'è ancora la Ferruzza all'interno, Botteghe all'esterno, si frutta, arriva che porta Bernarda, è Samo, è Samo, è Torre, c'è il palio.